Salve a tutti ragazzi, bentornati qua sul canale. Oggi nuovo video dedicato al calcio, un po' che non ne parliamo ma sentivo il bisogno quasi di parlarne. Allora siamo qua con la classifica che voi vedete alla mia sinistra e faremo una tier list dove daremo i voti, come a scuola, visto che si è concluso il girone d'andata, quindi siamo praticamente a metà stagione. E daremo i voti, come a scuola, a metà semestre, a tutte le squadre del nostro campionato. Ovviamente per chi ha fatto le coppe, le coppe non varranno nella votazione e nel giudizio. Votazione o giudizio, chiamatelo come volete, prettamente personale. Un pensiero mio che si baserà sui risultati fatti in campionato, su quello che è successo in campionato. Io dunque direi di partire in qualche modo partendo dall'ultima, dalla fine di tutto, ovvero dalla Salernitana. Salernitana che più volte, abbiamo detto, non essere praticamente pronta per la Serie A a livello di mercato, di esperienza e quant'altro. Pesa anche il fatto di comunque aver cambiato allenatore, via Castori, dentro con l'Antuono. La situazione non è cambiata, la squadra non è praticamente mai stata pronta per la Serie A e in più c'è tutto il discorso relativo al discorso societario, insomma, alla presidenza della Salernitana. Però questi sono altri discorsi che non ci interessano, a noi interessa la squadra. Ha fatto un buon mercato? No. Ha fatto un buon campionato fino a questo momento? Assolutamente no. Cambio di allenatore che non è servito assolutamente a niente e quindi alla signora Salernitana. Io ragazzi do un 3, un 3 pesante perché potevo ottenere anche qualcosina in più, non è successo e quindi ragazzi, mi dispiace per la gente di Salerno che non merita questa situazione. Vedremo poi se si risolverà anche tutto il discorso relativo alla presidenza. Cagliari. Cagliari, peggio mi sento. Cagliari, dov'è il Cagliari? Eccolo qua. 2. 2. Cagliari sicuramente strabocciato. La squadra praticamente era quella dell'anno scorso, pochissimi investimenti, acquisti pari a 0. E' arrivato Keita che non ha fatto chissà che cosa. C'è tutto anche il discorso del Via Maran preso l'anno scorso per salvarsi, Via Maran dentro Mazzarri che non è riuscito a dare una soluzione. In più c'è lo sfogo del presidente negli ultimi giorni dove ha già detto che praticamente tanti giocatori verranno ceduti a gennaio, chi rimarrà verrà ceduto poi in estate. Insomma, è un tutti contro tutti in quel di Cagliari e ragazzi la situazione è davvero bruttissima. Quindi voto 2 sicuramente. Genoa. Genoa pure qua, insufficienza piena. Voto come la Sederitana. Voto 3. Genoa che l'anno scorso con Ballardini si è riuscito a salvare come sempre. Mercato dove non si è fatto assolutamente niente. E' arrivato Caicedo ma c'ha avuto un sacco di problemi perché non desiderava la destinazione Genoa. Fares non è stato l'investimento che magari si sognava sulla fascia sinistra. Acquisti non consoni al progetto. L'unico che ci stava capendo qualcosa era Ballardini che cercava sempre di trovare il bandolo della Matassa e tirare fuori il 100% dai suoi. E' stato mandato via per Shevchenko che non ha fatto assolutamente il salto di qualità. Anzi, si è tornato un pochino indietro. Genoa che da quando è arrivato Shevchenko non è riuscito, non riesce a segnare due punti portati a casa con due pareggi per 0-0. L'ultimo con l'Atalanta fa ben sperare. Ma la strada è veramente lunga. Ma chi pensava che il Genoa potesse fare un campionato tranquillo quest'anno, come era successo nella seconda parte della passata stagione, beh, deve un po' ricredersi. Finalmente le sufficienze le troviamo in quella di la Spezia, a cui io do un set, sinceramente. Sicuramente il caso Tiago Motta farà un po' discutere. Tiago Motta che a gennaio, quindi dopo le feste, non sarà più allenatore dello Spezia, quindi già esonerato a prescindere. Spezia che però, non facendo mercato, perché comunque non è che hanno fatto questo grandissimo mercato per rimanere in Serie A, perché la squadra è praticamente quella dell'anno scorso, ha perso un allenatore che sta facendo molto bene a Firenze come italiano e che ha dimostrato l'anno scorso di fare molto bene. Ha perso un giocatore fondamentale come Pobega l'anno scorso. Il caso Nzolà d'inizio stagione, messo fuori rosa, poi reintegrato nel gruppo. E nonostante questi problemi, nonostante la squadra non fosse sulla carta pronta per la Serie A, lo Spezia, zitto zitto, è quarto ultimo, fuori dalla zona retrocessione, 16 punti, più 5 sul Genoa. Insomma, se la potrebbe giocare. Vedremo adesso, dopo Tiago Motta, chi arriverà. 7 anche al buon Venezia, perché anche qua, squadra non pronta sulla carta, almeno sulla carta a inizio stagione, non pronta per la Serie A, si è presa però delle belle soddisfazioni. 17 punti, più 6 sul Genoa. E ragazzi, è una squadra che, specialmente in casa, è faticosa ad affrontare, e crea un po' di problemi. Ottima sorpresa. Direi ottima, ottima sorpresa. Quindi, 7 strameritato. Vedremo poi chi tra Spezia, Venezia, Genoa e Cagliari ci saluterà e chi, invece, rimarrà in Serie A anche l'anno prossimo. Sampdoria, 20 punti. Allora, Sampdoria, 20 punti. Io gli darei un bel 5. Allora, 5 perché sono stati fatti degli investimenti importanti. Vedi Caputo. D'Aversa, che pareva... No, noi tutti ci ricordiamo il Parma con D'Aversa per come giocava e per i risultati che ha ottenuto. Invece non è riuscito a replicare a Genova, a Sponda, blu cerchiata. Ed è un peccato, un peccato perché la squadra è molto buona. D'Aversa, Damsgaard, prima dell'infortunio, era un fantasma di se stesso. Chissà se tornerà e sederà il suo apporto, però, insomma, la squadra è ancora sulla carta molto valida, non per lottare per la salvezza. Vedremo, nella seconda parte di stagione, un po' deludente la Sampdoria, che non può più, per motivi di carta d'identità, affidarsi a Quagliarella sempre e costantemente. Udinese, Udinese voto 6, perché Udinese sono praticamente anni, anni e anni che sta facendo quello che sta facendo. Quindi campionato tranquillo, sempre sulla stessa linea, mai con il salto di qualità, mai con il crollo verticale. Un campionato sereno e tranquillo, quindi vedremo. Vedremo, si parla già di un Beto che potrebbe andar via in estate, ma comunque poi i soldi non verranno reinvestiti nella squadra. Pesa l'infortunio di Pereira, ma non credo che alla fine con un Pereira l'Udinese avresse ambito a posizioni più alti. E quindi lasciamo tutto così, un 6, comunque, normale, ci sta sufficienza. Sta facendo il suo l'Udinese. Sassuolo, allora, Sassuolo voto, eh, qua è tosta, voto 5, un po' critico contro il Sassuolo. Allora, Sassuolo voto 5 perché c'erano grandi aspettative su Dionisi, che arrivava da una stagione esaltante con l'Empoli. A Sassuolo ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, un po' di sfortuna, tante partite dove magari poteva ottenere una vittoria, un pareggio in più e invece purtroppo non sono andate. È una squadra molto giovane. Dionisi ha questo gioco molto offensivo che faceva all'Empoli e lo sta, ripetendo anche a Modena. Il problema è che concede un po' troppo. Io avevo grosse aspettative per questo Sassuolo, non che magari potesse fare la stagione come De Zerbi l'anno scorso, ma qualcosina in più poteva fare rispetto a quello che sta facendo. Tanti giochi interessanti da Raspadori, da Scamacca, Frattesi e compagno dicendo, anche se il Sassuolo ha perso Locatelli, non è che ha fatto questo grosso investimento. Ed è un peccato, perché secondo me poteva essere un pelino più avanti, ovvio. Verona, Verona ha due facce, però io darei un 7, perché l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione con Iuric, non era facile quest'anno ripetersi. E' arrivato di Francesco, flop totale nella parentesi di Ifra, con la scommessa Acciolito-Simeone e poi l'arrivo di Tudor, post di Francesco. Tudor, che ha fatto un filotto di ottimi risultati positivi, stra-positivi per il Verona, che gli ha permesso di salire la classifica fino a essere lì, perché si trova a tre punti dal nono posto. E quindi, comunque, grandissima stagione, grandissima seconda parte di prima stagione, di prima metà stagione, con Tudor. Di Francesco assolutamente bocciato e quindi 7, perché diciamo che il Verona è partito con quelle 4-5 partite di scarto rispetto agli altri. Torino, Torino 6, complice un po' gli infortuni di Belotti, soprattutto fermo due volte per infortunio. Juric però è riuscito a trovare la squadra della stagione, gli manca ancora quel qualcosa. È una squadra che concede poco, infatti solo 19 gol subiti addirittura a fronte dei 23. Sta facendo un po' quello che ha fatto a Verona l'anno scorso. Squadra bella compatta in difesa, concede poco, crea pochi problemi, se vogliamo, agli avversari. Manca Belotti, manca qualcuno lì davanti che segna. È il periodo che Belotti era tornato, aveva segnato. Adesso speriamo che da gennaio, il Torino intanto a gennaio potrebbe investire qualcosa, però speriamo che da gennaio torna anche Belotti a far cantare il suo galletto. Bologna, Bologna 7. Io sinceramente non mi sarei mai immaginato un Bologna in questo modo, in questa stagione, visto che negli ultimi anni il Bologna faceva un po', faceva il suo, faceva il compitino, non aveva grossi ambizioni, faceva il suo, campionato tranquillo, fuori dalla zona salvezza. Quest'anno grossissimi investimenti non ci sono stati, partenza di Tomigliasu, partenza importantissima. E' arrivato Arnautovic, dove c'erano parecchi dubbi intorno a lui, invece si è fatto valere, si sta facendo valere. E' un Bologna che sembra molto più solido, molto più compatto rispetto agli ultimi anni. Vedremo se sarà solo una fiammata e se magari nella seconda parte riusciranno a concretizzare e a portare a casa questa top 10 in campionato, anche perché se andiamo a vedere Sassuolo, Verona, Torino, Bologna ed Empoli sono tutte molto vicine, quindi davvero basta poco e ci mettiamo anche Udinese e Samp. Però grandissima sorpresa del Bologna, io sinceramente non me lo sarei mai immaginato, ma chi ha fatto ancora meglio è l'Empoli. Voto 8 ragazzi, anzi 9. Io metto 9 all'Empoli. 9 all'Empoli, squadra fantastica, squadra giovane, squadra neopromossa, investimenti giusti, mirati, Andrea Zoli che ha trovato la sua dimensione richiamato al posto di Dionisi partente per Sassuolo e qua l'intelligenza, qual è stata? Il non andare a sconvolgere tutto, ma usare, continuare sulla falsa riga di quello che aveva insegnato Dionisi all'Empoli. L'anno scorso in Serie B, quest'anno stanno facendo davvero un ottimo lavoro. Nono posto per una squadra neopromossa. Hanno un Pinamonti che finalmente ha trovato anche qua la sua dimensione, scommessa Cutrone che per ora non sta ripagando, ma comunque è una squadra che gioca bene, difende bene, attacca, crea pericoli un po' a tutti, abbiamo visto col Milan. Insomma un 4-2 non facile per il Milan. Quindi è una squadra che si è tolta già qualche soddisfazione, si sta togliendo delle soddisfazioni e chissà se riuscirà anche a togliersele poi nella seconda parte della stagione 27 punti. Se vogliamo proprio dire che a quota 40 ci si salva, ma vedendo Cagliari, Genoa e Salernitana e possiamo anche abbassare a 35 la quota salvezza, direi che all'Empoli insomma una decina di punti che li può anche fare facile e si salva, quindi con largo anticipo. Quindi grandissima stagione dell'Empoli. Lazio. Lazio. Io qua devo cercare di essere il più sportivo possibile. Partiamo da questo presupposto. Lazio. Lazio 6. Lazio 6 è una squadra che è un cantiere aperto. Il discorso che vale per la Lazio varrà anche per la Roma. Squadra che è un cantiere aperto, è una squadra che sta ancora cercando di assorbire i meccanismi di Sarri, una squadra che ha avuto degli infortuni importanti, assenze importanti. è una squadra che ha subito molto rispetto alle dirette concorrenti il doppio impegno campionato Europa e è una squadra che non è fatta per fare due o più competizioni, è una squadra molto corta. Diciamo che stanno facendo peggio dell'anno scorso con Inzaghi, ma lì c'erano dei meccanismi già rodati. Qui c'è un progetto che parte da zero e quindi io direi che un 6 ci può stare. Alla fine della fiera il 6 ci può stare. Fiorentina, Fiorentina 7, era una delle mie previsioni che la Fiorentina quest'anno potesse fare un buon campionato perché l'italiano giocava molto bene l'anno scorso con lo Spezia, faceva giocare molto bene la sua squadra. Quest'anno a Firenze è stato l'allenatore giusto, la scommessa giusta. Fiorentina che ha fatto un buon mercato, un buon mercato, buona avventura davvero top e vedendo come giocava lo Spezia l'anno scorso e vedendo quest'anno la Fiorentina con questo centrocampo era prevedibile poi che comunque avrebbero fatto bene. Grande sorpresa anche Nico Gonzalez, mentre Dujan Vlaovic non lo scopriamo certo quest'anno. è stata un po' la scommessa vinta dalla Fiorentina in questi anni, l'anno scorso grazie a Prandelli ha trovato continuità, si è fatto vedere, si è fatto notare, tanto che poi Iachini tornando lo ha rimesso al centro dell'attacco, quest'anno italiano con il suo gioco lo sta praticamente facendo esplodere. Lo sogna mezza Europa, vedremo, però grandissimo campionato della Fiorentina. è una squadra ostica, difficile da affrontare, ha qualche passo falso, però alla fine insomma ci può stare, ci può stare. Roma, Roma 6, stesso discorso per la Lazio, è un cantiere aperto, è una squadra, perché ha creato Murigno quest'anno, è una squadra che non è costruita per fare il doppio impegno campionato Coppe, lo abbiamo visto più e più volte quest'anno, è una squadra corta con la Lazio e quindi in tante situazioni magari si sono trovati in difficoltà perché non avevano i cambi adeguati. Dovranno intervenire sicuramente a gennaio, lo spero, in quanto romanista, e quindi vedremo, vedremo quello che succederà, però secondo me, visti poi anche i punti persi per strada per motivi arbitrali, che potrebbero essere all'incirca, secondo me 3-4 tutti, si poteva essere un pelino più avanti, essere un po' più vicini, che avrebbe aumentato un pochino il voto, ma alla fine, con i sé e con i ma, la guerra non si vince. Quindi voto 6 alla Roma, voto 4 alla Juventus. Adesso vi spiego il perché. Allora, la Juventus è una squadra che, a mio modesto parere, ovviamente, è una squadra che quest'anno ha, intanto sta pesando molto l'assenza di un giocatore come i CR7 alla Juventus, e su questo penso che non ci siano dubbi. È una squadra che, da due anni, due-tre anni, ha un problema, che manca qualcuno al centrocampo che, una volta presa palla, sa quello che deve farci. Il giocatore è chiesto da Pirlo e non è arrivato perché è arrivato Arthur, che può fare qualsiasi cosa, anche le frittelle, ma non può dettare i ritmi di gioco, ecco, non può fare il regista. È arrivato Locatelli, che non lo può fare, perché Locatelli è una mezzala e non è nelle sue corde fare il regista. Quindi Juventus, che sta sbattendo contro il muro da un paio d'anni, sempre sullo stesso problema. E in tante partite quest'anno si è vista questa cosa, specie all'inizio. Altra cosa, la Juventus ha fatto quel passettino indietro che non avrebbe dovuto fare, o comunque non doveva fare, perché io ero uno di quelli che l'anno scorso, scusate, io ero uno di quelli che l'anno scorso diceva di tenere Pirlo, perché Pirlo comunque aveva dato una sorta di impronta. Era comunque il primo anno di Pirlo e chiudere quarto, al primo anno, vincendo due trofei, non è male. Bastavano, bastava rimanere e compirlo, quelle due o tre idee, e bastavano due giocatori. E la Juventus quest'anno sarebbe stata molto più competitiva, o comunque non avrebbe fatto degli scivoloni, come poi è stato. Quindi voto 4, perché si ricomincia con il terzo progetto in tre anni, anzi, con il quarto progetto in quattro anni, e vedremo. Io non la do comunque per morta, non la do per finita, ma comunque è stato un passettino indietro. Non sta rispettando le aspettative da parte di nessuno, quindi secondo me il 4 ci può stare più per un discorso di lungimiranza e di progetto che per altro. Atalanta, Atalanta a voto 6. Atalanta a voto 6, ormai non è più una sorpresa, ma anzi è una conferma dell'Atalanta, sempre fissa lì, nei primi 4-5 posti. È una squadra che quest'anno sta andando un po' meno rispetto agli anni scorsi, è una squadra che sembra che faccia molta più fatica, che è molto più stanca nel doppio impegno, è una squadra che ormai ha molti nazionali e quindi paga anche le partite dopo la sosta delle nazionali, è una squadra che gioca bene, ha fatto degli investimenti non all'altezza degli ultimi anni, è una squadra che sta faticando più degli anni scorsi in Champions League, c'è forse quella piccola involuzione, manca Muriel, nel senso che Muriel c'è però, il suo rendimento non è paragonabile a quello degli anni scorsi, è una squadra che sta facendo più fatica rispetto agli anni scorsi, vediamo, e lo dimostrano anche i 4 gol subiti in casa dalla Roma, mai successo, e il pareggio col Genoa a fatica, quindi sta un po' faticando, vedremo se poi questa sosta gli farà bene, però il 6 comunque è lì, tra i primi 4, quindi il suo lo sta facendo. Napoli, Napoli voto 7, Napoli voto 7, dove va la cerentina? Napoli voto 7, perché non era facile, non era facile per Spalletti arrivare a Napoli, ambientarsi subito, far capire subito le tue idee ai giocatori, perché il problema, quando c'è il cambio d'allenatore, è il resettare, il dover resettare tutto, tutto il gioco, tutto quello che un giocatore ha immagazzinato, magari negli anni, con l'allenatore vecchio, e quindi ripartire un pochino da zero, non è assolutamente facile, Spalletti però è stato molto molto bravo, conoscendo Spalletti, immaginavo che il Napoli quest'anno, avrebbe fatto una grandissima stagione, è quello che sta facendo, si è un po' perso ultimamente, ma un po' la sfortuna, un po' pagano anche gli infortuni, però il Napoli è lì, è lì comunque, obiettivamente a meno 7 dall'Inter, quindi ancora tutto può succedere, vedremo poi come uscirà dall'Europa League, cioè dal doppio impegno col Barcione, vediamo poi come uscirà, se ne risentirà anche in campionato, vedremo, però il Napoli quest'anno può fare una grandissima stagione, se dovesse fare il girone di ritorno come il girone d'andata, magari non perdendo punti in certe situazioni, vedi Empoli, vedi la Spezia, potrebbe, potrebbe dar fastidio, e lottare fino all'ultimo, ecco, Milan, Milan, allora Milan e Inter, io direi 8, perché dove va? dove va il Venezia? dove va il Venezia? allora Milan e Inter, io direi 8, obiettivamente, sono due squadre, che stanno tenendo un ritmo da inizio stagione fenomenale, hanno calato davvero poco il ritmo, hanno ottenuto dei risultati molto importanti, che gli sono serviti anche per maturare, per fare quel salto in avanti, Milan, Milan, grandissimo dubbio sul Milan, sempre parlo per me stesso, perché di solito le squadre di Pioli faticano un po', cioè Pioli è bravissimo se entra a campionato in corso, ma gli anni successivi vanno sempre un po' a fatica, invece adesso Pioli sembra aver trovato davvero la sua dimensione, perché quest'anno davvero col Milan sta facendo un ottimo lavoro, i giovani ormai stanno crescendo, stanno diventando sempre più delle certezze, c'è un bel mix di giovani e più esperti, se vogliamo, acquisti mirati, acquisti mirati, squadra davvero molto molto solida, che gioca anche bene, che sa soffrire e sa vincere, nella seconda parte di stagione, purtroppo non avrà le coppe di mezzo, perché purtroppo è uscita dalla Champions League, però questo potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda il campionato, il fatto di poter riposare di più, il fatto di poter preparare meglio magari una partita, e quindi chissà. Capitolo Inter, andato via Conte, arrivato Inzaghi, modulo più o meno lo stesso, 3-5-2, persi due giocatori molto importanti, quasi fondamentali come Akimi e Lukaku, Eriksen purtroppo è inutilizzabile totalmente, da inizio stagione, Inzaghi è riuscito, tocca dare a Inzaghi quello che è di Inzaghi, è riuscito a dare una identità, un gioco molto più offensivo rispetto a quello di Conte, che magari in certe situazioni, specialmente all'inizio, i giocatori hanno un po' pagato, ma che alla fine poi sta uscendo. Anche qua, Dunfrees è arrivato nelle ultime settimane, a farsi vedere in modo importante, ma comunque è stato un buon acquisto. Non era a livello di Akimi, e su questo non ci piove, però insomma sta dimostrando di poter fare il suo. Dzeko, almeno io non mi immaginavo una partenza di Dzeko in questo modo nell'Inter, e invece ha trovato un'ottima prima parte di stagione, anche magari facilitato dal gioco di Inzaghi. C'ha la Noglu, che si era perso, poi invece è stato ritrovato, sempre più al centro della manovra. È una squadra davvero che gioca bene. E anche qua, il fatto di non aver cambiato modulo, anche perché poi Inzaghi giocava così a Lazio, ha aiutato molti giocatori. Nel senso che non dovevano ripartire da zero, ma dovevano solo magari lavorare nel giocare un po' più di fantasia, un po' più in modo offensivo, ed è quello che l'Inter sta facendo. Primo posto, campione d'inverno, e ragazzi, c'era quella piccola ombra sui sconti diretti. Sono riusciti anche a vincere gli sconti diretti. E quindi, vedremo. E quindi, complimenti ai Nerazzurri. Sarà una seconda parte di stagione, secondo me, molto interessante. Sia per la lotta salvezza, che poi per la lotta scudetto, e lotta champions Europa, e quello che è. E quello che poi sarà. quindi avremo altre 19 partite, penso, molto divertenti. Non sono contento sul fatto che cambi il calendario nella seconda parte, che venga un po' tutto stravolto, però ci accontentiamo. La Lega vuole farci questi scherzettini. Quindi, ragazzi, io ho detto questo, vi inizio a salutare. Ci vediamo al prossimo video. Io vi auguro un buon Natale, una buona vigilia, Natale, Santo Stefano, e tutte le feste. Noi ci vediamo in questi giorni, insomma. Un saluto, un abbraccio, e non mangiate tanto panettone, eh? Anche un po' di pandoro, che almeno così, spartite, fate un po' e un po', giustamente, per la par condicio. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto, a presto, ciao!